Eccoci qua, alla scrivania come sempre, Filippa, come sempre la cortesia di introdurre i nostri primi ospiti. Sì, anche quest'anno diamo grande spazio all'attualità e adesso diamo il benvenuto all'editorialista di Repubblica, Massimo Giannini, il vice-editore del Corriere della Sera, Fiorenza Zarsanini, e con noi anche il giornalista Giovanni Floris, che ha appena pubblicato per Solferino il suo nuovo libro, L'Essenziale, appunti di un lettore avventuroso. Buonasera ai miei ospiti, buonasera a Giovanni Floris, buonasera a Fiorenza Zarsanini, vice-editore del Corriere della Sera, e a Massimo Giannini, da poco diventato, tornato a Repubblica come editorialista appunto di Repubblica. Naturalmente il presente ci obbliga a occuparci di quello che sta accadendo in Medio Oriente e se mi permettete prima di cominciare mi vorrei collegare con Gianluca Mezzofiore, che fa parte del team investigativo della CNN, che è collegato con noi da Londra. Buonasera Gianluca, esperto di Medio Oriente e inviato di guerra. Grazie a te e alla CNN per la collaborazione che abbiamo instaurato in questa stagione e sono a chiederti appunto intanto se ci sono delle ultime. Sì, sì Fabio, allora l'esercito israeliano come sappiamo si sta preparando alla fase successiva della guerra, che includerà un significativo attacco via terra, mare e cielo. Appunto le ultime sono che centinaia di migliaia di palestinesi a Gaza stanno scappando verso sud attraverso i due corridori umanitari stabiliti da Israele. Ma il numero di morti a Gaza dall'inizio dei bombardamenti aerei israeliani otto giorni fa ha superato 2.670 persone, che è più del numero di morti durante il conflitto del 2014, che appunto durò 51 giorni. Si parla di 300 morti soltanto nelle ultime 24 ore, la maggioranza sono donne e bambini. I morti israeliani intanto dall'attacco di Hamas del 7 ottobre sono saliti a 1.400. e appunto ricordiamo che i residenti di Gaza sono intrappolati nella striscia senza via d'uscita dopo che il ministro della difesa israeliana, Yohav Gallant, ha ordinato un assedio completo a Gaza. Quindi appunto parliamo di stop a cibo, acqua, benzina e medicine. Le ultime sono che Israele ha detto di aver ristabilito la fornitura d'acqua verso Gaza, ma noi a Siena non abbiamo ricevuto nessuna conferma da parte delle autorità palestinesi che questo sta succedendo. La situazione umanitaria è catastrofica. Ti volevo chiedere ancora una cosa, ti chiedo scusa, il segretario di Stato americano Blinken ha annunciato che il valico di Rafa verrà aperto agli aiuti umanitari, che è una notizia importante se confermata. Su questa hai qualche conferma? Sì, non c'è ancora nessuna conferma. Appunto Blinken in Egitto per parlare di aiuti umanitari, e come appunto sappiamo la situazione umanitaria è catastrofica. L'unica via d'uscita e di entrata sarebbe tramite il valico di Rafa. L'annuncio è molto importante e se confermato appunto permetterebbe agli aiuti di entrare a Gaza e forse appunto anche ai palestinesi di trovare una via d'uscita. Alcuni residenti di Gaza con cui abbiamo parlato oggi ci hanno detto che sono stati mandati indietro dalle autorità al confine con l'Egitto, quindi sembra che la situazione sia ancora drammatica al confine. Fiorenza, le sazzanini, l'invasione di terra quindi pare imminente, in realtà non si capisce bene quale sia la tempistica, però insomma le conseguenze sarebbero imprevedibili, questo lo dice l'Iran e lo dicono in tanti. Il problema è l'Egitto perché l'Egitto aveva detto che non avrebbe aperto il valico, quindi se Blinken può assicurare che questo valico è aperto, questa è una buona notizia, non tanto per far entrare gli aiuti umanitari, perché il problema è far uscire le persone e farle uscire in sicurezza. Ora Israele appunto attende perché le prime notizie che arrivavano era che l'attacco potesse scattare subito dopo la partenza di Blinken, evidentemente ci si è resi conto che sarebbe stata una carneficina anche tra i civili, quindi si sta dando un po' di tempo, il problema è dare tempo per uscire davvero, non dare tempo per farli arrivare al confine e poi bloccarli di nuovo. Faccio un'ultima domanda Gianluca Mezzofiore per la Siena, per capire dal vostro punto di vista, del tuo team, quali sono le aspettative, cioè che cosa pensate in realtà che possa succedere da qui alle prossime ore? Dunque sembra che Israele stia aspettando che i civili lasciano la parte nord di Gaza per poi lanciare questo attacco di terra. Queste sono le ultime notizie che stiamo ricevendo. Oggi è il secondo giorno appunto che Israele ha aperto questi corridori umanitari lungo una via che connette la parte nord alla parte sud di Gaza. Parliamo appunto di 600.000 persone nel discorso avrebbero attraversato questo corridoio umanitario. Ci sono stati anche episodi drammatici di esplosioni lungo il corridoio che ancora non sono state stabilite le cause se un'esplosione è dovuta a un attacco israeliano oppure un incidente. Ma appunto sembra che l'attacco possa iniziare una volta che i civili abbiano abbandonato la parte nord. Ti ringrazio molto. Ringrazio e saluto Gianluca Mezzofiore dalla CNN di Londra. Grazie Gianluca. Prego. Continuiamo. Prego. Perché riflettevo, lo dico sia a Giovanni Floris che a Massimo Giannini, insomma sembrava di essere un passo da un accordo storico tra Arabia e Israele e poi improvvisamente si è tornato indietro di 50 anni. Improvvisamente è un avverbio credo opportuno, nel senso che nessuno si poteva aspettare questo attacco. Diciamo, nessuno si poteva aspettare è uno dei problemi che causano questa tragedia. Perché sicuri, ragioniamoci ora, sicuri che non se lo potessimo aspettare. Cioè da quanto tempo è che Israele e la Palestina, i territori palestinesi, vivono in una situazione di tensione intollerabile? E sai l'idea che con la logica non ci si possa spiegare come mai si sia arrivati alla mostruosità atroce di Hamas che attacca in quel modo e come mai non si sia risposti con la logica ci può portare a situazioni ugualmente imprevedibili e terrificanti? Faccio degli esempi. Allora comprendiamo tutti la rabbia con cui poi Israele ha reagito a quell'orrore cui è stato sottoposto. Il problema è che c'è una classe dirigente che empatizza e non che guida con la logica. Noi ora abbiamo, stiamo dicendo, è importantissimo che si apra il confine a sud. Quei palestinesi quando usciranno finiscono nel Sinai, non è che li abbiamo sistemati, finiscono nel deserto. Pensiamo se poi Israele porterà un attacco così duro via terra a Gaza. Israele non convive con i palestinesi solo verso Gaza e verso Gaza abbiamo le recinzioni, abbiamo i muri. Sono in Cisordania, in Cisordania c'è l'autostrada che lega un quarto d'ora a Betlemme e Gerusalemme. Se tu ora, anzi se tu venti giorni fa con la macchina israeliana sbagliavi svincolo e finivi a Betlemme o in una zona della Cisordania rischiavi il linciaggio. Allora quella è una situazione che adesso è infuocata in una maniera spaventosa. ma non è detto che quello che si fa per una reazione comprensibile possa essere né giusto né conveniente per il popolo israele. Perché se poi la cosa sfugge diventa ancora peggio. Di questo parleremo tra poco perché ci collegheremo con David Grossman ma volevo chiedere a Massimo Giannini qual è lo scopo di questa azione secondo te di Massimo? Cioè perché Massimo ha scelto questo momento per compiere questo orrore? Una logica c'è purtroppo. Non è vero che non c'è una logica. Forse per quello che riguarda Massimo è l'unica azione terribile, mostruosa che ha dietro una logica. Aver dietro una logica non significa né che sia giusta né che sia condivisibile. È mostruoso quello che è successo. Si è parlato giustamente di pogrom è una cosa che non succedeva dai tempi della Shoah quando gli ebrei venivano inseguiti casa per casa e massacrati uno ad uno. Donne, uomini, bambini, nonni, anziani e così via. Quindi questo è il punto. Però la logica qual è? La logica è che, e qui dovremmo aprire un capitolo di riflessione molto ampio cercando di evitare la solita logica italiana per cui chiunque osi riflettere sul passato allora vuol dire che si schiera in una curva nel caso di specie quella filo Hamas contro l'altra curva, quella filo Israele. Stesso schema che abbiamo già visto all'opera sulla sporca guerra russa contro l'Ucraina. Ecco, però se si guarda al passato ci rendiamo conto che tutto quello che il governo israeliano in questa fase stava cercando di costruire disinnescando o ignorando la tragedia di cui parlava Giovanni prima che risale al 48 da quando è nato lo Stato di Israele e quindi abbandonando la striscia di Gaza lasciando che in Cisgiordania ben 144 insediamenti di coloni si moltiplicassero nel tempo facendo accordi col mondo arabo e cioè i cosiddetti patti di Abramo e insieme a questo soprattutto l'ultimo accordo doveva essere tra Israele e Arabia Saudita accordi fatti sopra la testa dei popoli accordi fatti tra potenze. Hamas ha voluto nella maniera più abberrante possibile interrompere questo tipo di negoziati che erano diplomazia ma non erano popolo. L'ha fatto dicendo che tutelava il popolo palestinese in realtà gettando le basi come stiamo per vedere purtroppo per un massacro di palestinesi. Questo è il paradosso nel quale viviamo. Però se non ragioniamo su quello che è accaduto non già per distribuire colpe o assoluzioni noi non usciremo mai da questa tragedia. Fiorenza Sarzanini il timore adesso però che questa guerra possa allargarsi al Libano dove Zbola è già in conflitto con Israele e sono accaduti i primi razzi oggi dopo in Libano. Persino l'Iran insomma fa questo rischio atroce. E poi non dimentichiamoci che in questo momento ci sono 200 ostaggi la maggior parte occidentali non solo israeliani che si trovano appunto a Gaza quindi parte l'attacco di terra che cosa succede lì? Abbiamo ostaggi americani, britannici, tedeschi, francesi quindi anche questo è un alto fattore di rischio che la guerra o comunque la tensione diplomatica possa allargarsi. In più appunto c'è Zbola che prima ha detto restiamo fuori ma via via con il passare delle ore già dice che vedranno che cosa fare. C'è l'Egitto, cioè come diceva Massimo è una cosa che non nasce adesso e in più bisogna anche capire siccome questa cosa della sorpresa cioè che i servizi segreti israeliani siano stati del tutto sorpresi non è convincente quindi bisogna vedere anche dentro Israele che cosa succede e se ci sono dei doppio giochisti. Ecco, e allora facciamo così andiamo proprio a vedere che cosa succede dentro Israele. Una delle grandi fortune del mio lavoro è di incontrare persone speciali e una delle persone più straordinarie che abbia mai conosciuto e a cui sono legato da sincero affetto è uno dei più grandi scrittori intellettuali contemporanei e David Grossman che è collegato da Israele con noi. Buonasera David. Buonasera. E grazie, grazie infinite. Vorrei chiederti innanzitutto qual è il tuo stato d'animo in questo momento e quali sono i tuoi timori. In prima battuta devo dire che è stato un po' difficile capire quello che è stato detto perché purtroppo la trasmissione è un po' disturbata e quindi non posso rispondere direttamente. Però che cosa penso e che cosa provo io? essere esposto a una brutalità così incredibile a questo male totale proprio come siamo stati esposti tutti nel corso dell'attacco di Hamas ti fa non voler essere in quel mondo che permette dei comportamenti di questo genere. Hai la sensazione che la tua mente non riesca a contenere tutto questo che la lingua non possa spiegare ciò che sta accadendo. E hai ragione ci sono molti modi per essere critici nei confronti di Israele Israele ha fatto delle cose terribili nel corso degli ultimi anni nel corso dell'occupazione noi di fatto da 55-56 anni stiamo occupando la terra di un altro popolo questo da solo è una cosa che ti fa pensare che non sia possibile una situazione di questo genere ma poi questa situazione si deteriora e distorge sia gli israeliani che i palestinesi provoca una frustrazione sempre maggiore una violenza una crudeltà sempre maggiori e allora se c'è se ci deve essere una via di uscita in questa situazione forse ci sarà ma attualmente come ho detto anche se noi denunciamo quello che ha fatto Israele nel corso degli ultimi anni siamo intrappolati in una situazione che di fatto presuppone un altro tipo di analisi non è possibile paragonare neanche i 56 anni di occupazione con questo massacro brutale perché il massacro ha uno scopo quello di colpire coloro che sono totalmente inermi Fabio tu hai citato donne bimbi ebbene c'è qualcosa dentro questa brutalità così diretta ecco se hai un vicino di questo genere allora io credo che hai il diritto di mettere a punto una certa punizione o comunque cercare di arrestare questo tipo di reati c'è un punto dove si deve capire che ci deve essere una differenza fra vendetta punizione e una certa mancanza di logicità come qualcuno ha detto beh io credo che si debba essere molto molto cauti a tracciare una linea di demarcazione fra la punizione e la reazione che Israele dovrebbe avere giustamente per difendersi bisogna stare molto molto attenti bisogna creare dei corridoi umanitari come di fatto si è già iniziato a fare e questo permetterà speriamo la maggior parte delle persone di spostarsi dal nord al sud della striscia di Gaza in modo da riuscire a togliersi dell'influenza della militare israeliana ebbene ci sono già appunto i palestinesi che si stanno come dire muovendo dal nord verso il sud in posti più sicuri e Hamas sta andando contro questo loro desiderio bisogna ricordarsi che quando si parla di Gaza ebbene ci sono atti orribili che vengono perpetrati su popolazioni che tutto quello che vogliono avere è una vita normale la dignità allora che cosa dobbiamo fare con questo gruppo che si è appropriato della striscia di Gaza che ha soggiogato la maggior parte di coloro che vivono a Gaza e non so se ci sia una soluzione io non ce l'ho non so se qualcuno ce la possa avere una soluzione di questo problema se Israele entra a Gaza ci saranno tantissime vittime da una parte e dall'altra e probabilmente ecco io credo che lo scopo per il quale si vuole far scoppiare questa guerra verrà raggiunto ma durerà pochissimo perché poi si ritornerà ad un'altra situazione quindi è un incubo questo è un incubo perché per noi è un incubo andiamo per strada ci parliamo e giustamente parliamo proprio di questo dell'incubo non ci sono parole per descrivere questa brutalità Davide oggi il maestro Daniel Barenboim fondatore della West Eastern Divan Orchestra con l'americano palestinese Edward Said ha scritto delle parole bellissime sulla necessità di trovare l'umanità nel nemico lui dice è dall'umanità proprio del nemico che dobbiamo ripartire perché se non si vede innanzitutto l'uomo nel nemico è la fine mi chiedo se in questi momenti però c'è questa possibilità che è poi l'essenza di tutto il discorso cioè di trovare l'umanità nel nemico o se invece in questa fase non è assolutamente possibile l'odio prevale credo sia difficilissimo adesso da 35 e 40 anni a questa parte scrivo a proposito di questo conflitto ho scritto libri ci penso è una situazione personale la mia famiglia ha pagato un prezzo altissimo proprio la vita di mio figlio Uris è stata sacrificata 17 anni fa però ci sono momenti in cui si comprende che il male non è sempre uguale all'altre forme di male e questo è un male assolutamente unico estremo completamente è un male che non abbiamo mai conosciuto prima sento gente dirmi dobbiamo essere obiettivi sì dobbiamo essere obiettivi sul male su quello che sta facendo Israele o i palestinesi io credo che sì vale la pena di essere critici nei confronti di Israele però l'obiettività in questo caso perdonatemi è come dire una copertura del nostro paradiso ci sono momenti in cui devi ascoltarti all'interno devi basarti sulla tua intuizione nazionale che ti dice che questa cosa è diversa dagli altri massacri e che è pericolosa non semplicemente perché mette in pericolo Israele ma è un pericolo esistenziale questo stiamo parlando di questo dieci giorni fa eravamo come dire sull'orlo di essere invasi da Hamas che stavano arrivando a Tel Aviv e parte della reazione di Israele è questa reazione a questo terribile sentimento di perdita di perdere il proprio paese voglio dire una cosa a proposito dei sentimenti degli israeliani sono stati traditi dalla loro leadership la mattina di sabato quando non c'è stata la protezione ma ancora di più lo sarà nei giorni a venire Israele non è come qualsiasi altro paese certo ogni paese è unico però Israele è ancora più unica proprio per la nostra storia per quello che è la stratificazione della nostra fede siamo stati per anni e anni in esilio e abbiamo creato poi questo luogo meraviglioso Israele e la grande idea che è nel cuore e che è la base di Israele è che è uno stato la patria per gli ebrei e il primo ministro israeliano avrebbe dovuto trattare questa situazione unica miracolosa che ha fatto sì che dopo tantissimi anni di esilio avessimo una terra ebbene la nostra leadership non ha tenuto in considerazione questa cosa e non ha capito quella che è la grandissima responsabilità che ha nei confronti degli israeliani del paese e sulla garanzia che possa esistere hanno tradito costoro queste cose e hanno tradito quindi il cuore e la mente delle persone e noi la nostra paura è quella di perdere il nostro paese e quindi di pagare un prezzo assolutamente incredibilmente grande grazie david grazie infinite per essere stato con noi per le tue parole e per come le hai espresse mi permetti ti abbraccio con tutto il cuore proprio con tutto il cuore e tutto l'affetto che sai rieccoci qua che tempo che fa buonasera nuovamente a tutti ben ritrovati con Filippa Lagerbach e dopo aver ascoltato Davide Crossman con me Giovanni Floris Fiorenza Salzanini vice direttore del Corriere della Sera e tornato come editorialista Repubblica Massimo Giannini a cui vorrei proprio chiedere intanto un commento sulle parole di Davide Crossman molto intense e molto accorate beh molto intense e molto accorate lui è veramente un grande tra l'altro dobbiamo ricordare lo ha ricordato lui stesso che lui ha perso un figlio nella conflitto israelo palestinese che io con lui ho sempre evitato è la prima volta che lui ne parla e il fatto che ne abbia parlato vuol dire che davvero la misura è colma per così dire infatti ero molto toccato da questa cosa un cuore che lui siamo diventati molto amici chiedo scusa se parlo di me per un secondo proprio perché non abbiamo mai toccato l'argomento abbiamo sempre parlato senza mai dirlo il fatto che Davide questa sera abbia voluto esplicitarlo davanti a tutti fa intuire quale quantità di dolore di dolore però anche abbia dentro esattamente però ecco al tempo stesso una straordinaria lucidità perché anche questo è l'altro aspetto importante che va sottolineato quando parliamo di Israele Israele è un miracolo se ci si pensa in quel lembo di terra circondato da paesi e popoli che storicamente vorrebbero distruggerlo in maniera molto esplicita Hamas questo vuol fare resta è sempre stata e io auspico che continuerà ad esserlo una grande democrazia e ha intellettuali scrittori come Grossman ma ce ne sono tanti in questo momento che stanno facendo sentire la loro voce Harari Kerez ce ne sono tanti che in questi giorni hanno parlato hanno scritto sottolineando questi due aspetti da un lato l'orrore che ha rappresentato questo 7 ottobre questo sabato di sangue mai prima della Shoah e quindi nessuna giustificazione possibile però poi la lucidità nel ragionare sulla fase che Israele sta vivendo dal punto di vista politico che non è estranea purtroppo a quello che è successo e questa di nuovo non è una giustificazione ma come ha detto Grossman per troppo tempo questo governo israeliano si è disinteressato della sorte del suo popolo quello nei punti più esposti e ha considerato risolta in alcun modo perché non stava facendo nulla per risolverla la crisi dei palestinesi nella striscia di Gaza si è preoccupato soltanto di proteggere i coloni che man mano aumentavano gli insediamenti in Cisgiordania e alla fine non ha capito che cosa stava succedendo e quello che sta succedendo scusa e finisco a conferma di quello che diceva prima Fiorenza e cioè di che cosa stiamo rischiando non è solo l'Iran oggi la Cina ha fatto sapere all'Iran che dà appoggio assolutamente all'azione di Hamas e c'è chi non esclude non sono certo io a dirlo ma insedenato se ne parla che per condurre un attacco di quella straordinaria e terrificante geometrica potenza che abbiamo visto forse non è estranea neanche la Russia di Putin e allora se mettiamo tutto assieme e ricolleghiamo la crisi del Medio Oriente con quella Ucraina e vediamo agire sulla scena superpotenze in questo caso sì dalla Russia in giù siamo davvero come diceva Papa Francesco non una terza guerra mondiale diffusa ma questa rischia di esserlo davvero se deflagra in questi termini e quindi Grossman probabilmente ha parlato del figlio perché lo sente questo pericolo e se lo sente lui credo che dobbiamo sentirlo anche noi di sicuro chiedo entrambi sia a Fiorenza che a Giovanni già prima dell'attacco di Hamas sembrava che il sostegno internazionale all'Ucraina stesse in qualche modo lievemente scemando si affacciavano i primi dubbi no? Questa tragedia di Israele ve lo chiedo può distogliere l'attenzione poi avremo Shevchenko più tardi ne parleremo con lui che nel frattempo è inviato dal presidente Zelensky ma può secondo voi distogliere l'attenzione dal fronte ucraino? Lo può fare dal mio punto di vista perché ormai l'opinione pubblica in qualche misura si potrebbe dare per scontato ma il dramma è che anche le classi dirigenti vivono emotivamente le sfide che ci vengono poste io sentivo prima Grossman il sentimento è quello che ci rende umani cioè il sentimento l'emozione è quello che ci differenzia da una macchina ma una classe dirigente non può essere vittima del sentimento dell'emozione ora ragioniamo non abbiamo mai detto Netanyahu diciamolo Netanyahu è colpevole non solo del pregresso della tensione è responsabile della mancata difesa della popolazione israeliana come diceva Grossman attenzione perché potrebbe diventare responsabile dell'innesco di quella situazione a catena di cui parlava Massimo Giannini potrebbe anche essere caduto in una trappola perché torno a dire la reazione emotiva non è necessariamente né giusta né conveniente e se le classi dirigenti se i politici non solo quelli italiani cui siamo abituati vivono con con una passione convinti di inseguire il consenso delle persone che li eleggono perché questo consenso sarebbe basato unicamente sull'empatia del momento non sulla volontà di essere rappresentati in situazioni anche tragiche il male esiste non può essere esorcizzato attraverso il male bisogna passare le guerre esistono esistono i mostruosi atti terroristici abbiamo visto l'11 settembre c'è qualcosa di orrendo quanto buttare giù degli uffici come è successo quella volta con 3.000 morti non è che poi andare in Iraq e in Afghanistan abbia risolto il problema allora può essere che l'Ucraina passi in secondo piano sì perché non solo l'opinione pubblica ma anche le classi dirigenti occidentali si sono abituate a vivere i problemi che affrontano in chiave emotiva e non razionale ma c'è anche un problema proprio pratico nel senso che prima il giorno prima che ci fosse l'attacco di Hamas si stava decidendo se dare ancora armi come darle Giorgia Meloni ha parlato di stanchezza della popolazione e quindi come giustamente dice Giovanni anche poi in realtà molto spesso i governanti si nascondono dietro i cittadini la stanchezza della popolazione è la stanchezza di un governo che non ha più soldi non sa più come giustificare l'aumento delle bollette quindi questo sicuramente è un aspetto dopodiché è anche vero che Zelensky e l'abbiamo visto in tutti questi mesi ha fatto diciamo della sua immagine la sua arma migliore allora è chiaro che in questo momento anche Zelensky che dovesse fare appelli andare diciamo sulla ribalta internazionale suonerebbe quasi stonato a trarre su di sé l'attenzione mentre c'è un altro conflitto quindi il rischio è o che passi in secondo piano oppure che invece appunto si intrecci e che la Russia abbia un ruolo peraltro diciamo che il fatto che molti paesi arabi siano contro Israele potrebbe eccitarli di più rispetto all'Ucraina e quindi aprire un conflitto più ampio comunque è solo una cosa proprio a proposito di quello che diceva che diceva Fiorenza e Giovanni indipendentemente dal fatto che la Russia abbia contribuito o addirittura che sia stata la regista occulta di questo terribile mostruoso atto di terrorismo dal punto di vista geopolitico alla fine in questa situazione Putin è l'unico che ha da guadagnare e che sta guadagnando perché si distoglie l'attenzione dall'Ucraina è un dato oggettivo e quindi lui da questo punto di vista un dividendo lo ha già lucrato e anche questo ci deve atterrire e se mi è permesso c'è anche in qualche modo un'assenza dell'Europa in questa vicenda quella poi diciamo che forse in questo caso specifico visto come l'Europa si è mosso appunto anche nella guerra ucraina in tutte le altre crisi non so se in questo caso forse è un bene che l'Europa sia un attimo a guardare quello che accade perché appunto ci sono talmente tanti attori talmente tanti interpreti esatto interpreti che forse in termini cinematografici io dissento però perché il problema vero è che l'Europa non esiste questo è il vero punto l'Europa può avere ragione in Firenze che è meglio che non esista se deve essere rappresentata ma voi giustamente ragionate sull'Europa che c'è io non ragiono sull'Europa che c'è è chiaro che questa Europa così come la stiamo vedendo non può intervenire perché ognuno parla con voce propria e quindi come diceva Kissinger se chiamo l'Europa qual è il numero di telefono? Non c'è e questo è un dramma perché che cosa manca in questa vicenda come è già mancata nella guerra ucraina quella che Norberto Bobbio chiamava il terzo per la pace cioè occorrerebbe un'istituzione una forza che possa interfacciarsi con i contendenti credibilmente e autorevolmente l'Europa potrebbe esserlo se esistesse ma siccome non esiste non c'è quindi io l'unico l'unico di cui mi fiderei in questo momento visto che parliamo di un luogo sacro alle tre grandi religioni monoteiste potrebbe essere di nuovo Papa Francesco solo lui perché il resto non c'è se permettete cambiamo argomento poi voglio arrivare anche al libro di Giovanni Floris perché in questa fase è utile tornare ai fondamentali ma visto che c'è Firenze Salzanini volevo chiedere il tuo parere sulla condanna di seppure formale di Roberto Saviano a collaboratore del Corriere della Sera appunto ai mille euro di multa per aver diffamato Giorgia Meloni nel senso che nella sostanza è stato assolto perché si è passati dai 70.000 richiesti ai mille ma nella forma c'è un giornalista un intellettuale che è stato condannato io ho sempre detto anche pubblicamente sin dall'inizio che anche per averlo vissuto con altri presidenti del consiglio che quando la politica chiama in tribunale i giornalisti gli scrittori gli intellettuali non è mai una cosa buona mi dispiace che Roberto abbia detto forse penso di andare all'estero no io penso che Roberto debba rimanere qui proprio per questo facevamo una trasmissione tanti anni fa che si chiamava vieni via con me ogni volta c'erano i motivi per andare e per rimanere però Roberto deve rimanere con noi ma manca una condizione fondamentale che nessuno difende Roberto questo è il dramma del paese noi lo difendiamo no lo so ma naturalmente noi che siamo qua sì ma dico fuori di qua perché Roberto dice questo in questo momento perché purtroppo il sistema politico sociale culturale e anche un po' dell'informazione non capisce la portata di questa vicenda mille euro che vuoi che sia ma vi rendete conto un governo che querela denuncia un intellettuale per un giudizio che ha dato e gli chiede dei soldi ma dove siamo? che non ritira una volta che diviene governo esatto ma dove siamo? io sono una delle giornaliste denunciate da Renzi purtroppo io faccio la giudiziaria da tanti anni ora da un po' non più però rimango una cronista giudiziaria non succedeva mai diciamo che negli ultimi dieci anni c'è stato anche un imbarbarimento è così prima c'era ruoli diversi non ci sono più ne approfitto per salutare Mimmo Lucano invece che insomma che mi onoro di aver invitato in questa trasmissione per primo quando venne arrestato e che invece è stato assolto e prosciolto dalle accuse che lo riguardavano dicevo del libro di Giovanni Floris che mostro volentieri titolo a Solferino l'essenziale ecco proprio perché l'essenziale alla fine è quello di cui siamo fatti ciascuno di noi e ciascuno di noi è fatto per lo più dalle esperienze che ha vissuto e dai libri che ha letto quindi dalle esperienze altrui e in fasi come queste così difficili in cui è così difficile decifrare la realtà i classici per esempio possono essere una guida importante e abbiamo percorsi tutti e questa è una sorta di tua autobiografia letteraria attraverso le tue letture libri che mi hanno dato le categorie per comprendere quello che succede nell'arco di una vita che come succede a tutti cambia si trasforma ma pensa di cosa abbiamo parlato pensavo Conrad no Lord Jim lo spessore tra il giusto e sbagliato è largo quanto un foglio di carta poi abbiamo parlato della logica dell'empatia di come capire il mondo e in fondo quello è la società aperta ai popper non ci dice quello più idee arrivano più problemi possiamo risolvere ma abbiamo i Budenbrock di come ci si perde in base a un'ideologia tutto il percorso letterario prima diceva giustamente non mi ricordo forse Michele Serra se noi fossimo in Medio Oriente noi saremo Israele per come pensiamo come ragioniamo ci piaccia Netanyahu ci piaccia la Palestina ma il nostro modo di ragionare portato dalle nostre esperienze dalla nostra vita dai nostri film dai nostri libri ci porta a essere quelli tanto più abbiamo la responsabilità di saper far vivere una democrazia in quel contesto e in fondo noi siamo quello come dicevi tu quello che abbiamo immaginato quando eravamo ragazzi che abbiamo riscontrato quando eravamo più grandi e che abbiamo trovato nei libri quella panchina dove tu hai trascorso tanto tempo in attesa di ecco la panchina è un esempio racconta di una panchina in cui è trascorso molto tempo in un tempo in cui c'era il tempo appunto della noia ma guarda era la disoccupazione che è una cosa bruttissima ma io quando si combatte il reddito di cittadinanza perché dice intanto non lavorano ma il reddito di cittadinanza non regala denaro regala tempo il fatto che il governo chieda non di utilizzare il tempo formati leggi studia ma chieda di lavorare in quel momento ma se il lavoro non c'è che devo fare intanto datemi la possibilità di diventare migliore io sono stato disoccupato a lungo io avevo grandi lacune sui libri sui grandi classici scendevo io la mattina passavo il tempo a telefonare a tutti a farmi mi assumete mi assumete mi assumete alle tre staccavo e recuperavo Moby Dick lo dico a Fiorenza e a Massimo che lui nel libro invece avrebbe avuto una grande occasione perché lui ha avuto un incontro avvicinato col presidente Bush che ti ha riconosciuto io sono stato corrispondente in America come tutti i corrispondenti ora dovrei raccontare di quando ha un ricevimento invece racconti una cosa molto divertente io lo vidi in un ristorante mi misi fuori aspettandolo col microfono perché ero alla radio cercando di prenderlo all'uscita però in America se arriva il presidente non è una cosa dalsiasi quindi tutti i camerieri del ristorante si misero in fila dietro di me e io ora alla televisione imbroglia ma io sono piccolo e nero come un messicano erano tutti i camerieri messicani uscì fuori Bush disse voi messicani siete l'orgoglio della nazione e lei in particolare tenga dura mi diede la mano grazie a Fiorenza Serzanini a Giovanni Floris l'essenziale e a Massimo Giannini grazie grazie per essere stati con me in questa prima tappa del nuovo cammino grazie grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri